Un saluto a tutti. In questo video vi mostrerò il terzo dei cinque esercizi pratici per aiutarvi ad allineare pensieri, desideri e parole e manifestare così la legge di attrazione. Esercizio numero tre. Usa saggiamente le parole. Esercitati a migliorare l'uso delle parole che utilizzi per descrivere te stesso e la tua vita. Parole negative come non posso, non riesco, non dovrei, non merito dovrebbero essere evitate. Ti impediscono di manifestare la vita che vuoi vivere. Come creatore del tuo universo, quello che dici è la tua realtà. Per cui, la prossima volta che ti sorprendi a usare parole negative, riprendi il controllo e inquadra le tue parole in modo che abbiano un impatto più positivo sul tuo mondo. Ad esempio, se di solito dici qualcosa come sono in sovrappeso, perché non trasformarlo in una dichiarazione più positiva e costruttiva come Sto diventando più sano e ogni giorno mi avvicino sempre di più al mio peso ideale. Le tue parole sono la vernice con cui dipingi la tua realtà. Scegli quelle parole con saggezza e positività per creare una realtà che faccia bene a te e a chi ti circonda. Scegli quelle parole con saggezza per creare una realtà che faccia bene a te e a chi ti circonda.